ben a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio su minecraft per la play siamo qui con il mini gioco dove c'è da volare con l'elytra quello nuovo che hanno aggiunto è la prima volta che ci gioco voi vedete questo video quando questo minigioco sarà già uscito da anni però io la prima volta che ci gioco e quindi non arrabbiatevi se ve lo porto adesso direzione sbagliata non so dove cazzo devo andare gentilmente adesso ci muoio grazie gentilissimo comunque è la prima volta che ci gioco quindi non so bene come cazzo funziona però però scialla 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 dai dai non so come cazzo funziona vai li vai li ok ok però penso proprio che io devo prendere sti cosi e poi arrivare anche nei punti giusti no alla fine non l'ho visto nemmeno da nessuno e questo è il punto allora poi l'ho preso sta vincendo lui tutta la vita io sono morto ah scusate sempre per la voce sto registrando sempre lo stesso giorno quel giorno in cui già stavo male che sto registrando dopo aver registrato la vanilla quindi molto bello faccio dovevo andare penso io devo andare di qua comunque non è bruttissimo come gioco faremo due partite dio la prova agile faremo due partite è meglio che si sta anche aggiungendo persone perché per adesso non sono in due figa vabbè ripartiamo vai proiettivo qua si sale boom what the fuck dove dove andare di qua ok ok non ci arriverà mai lì porca puttana ecco qua ok vai avanti dai muoviti sbrigati sbrigati un po di velocità non puoi andare così letto 42 secondi per raggiungere il traguardo e dove cazzo è zio però porco dove cazzo sono sono pochi 30 secondi non so neanche dove cazzo si sto traguardo è poco però dai vai su dai che palle vabbè non ce la farò mai questo primo round è andato di merda si vabbè poi qua non ci capisco neanche niente vabbè ecco quello questo bello oh però ero 65 ce l'avevo quasi fatta a raggiungerlo vabbè ne facciamo un'altra ah ragazzi a round sta cosa se non l'avevo capito l'ho capito adesso l'ho capito proprio adesso non c'era scritto round 2 allora capi ah ma scusa se lo prendono io non li prendo i punti questo lo prende tutta la vita quello sbattuto no l'ho preso l'ho preso io questo l'ho preso io quello lo prende ah no no ok ce l'ho anch'io perfetto ok prendi questo no porco due lo sono morto però stavolta almeno vorrei arrivare a sto traguardo no un attimino eh sai com'è vai questo mi sa che era quello di quelli potenti proprio c'è c'è pop unicorn lì che è fortissimo guardate quanti cazzo di punti ha come non l'ho preso dai porco due dai no 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 cazzo però sto gioco fa stilare ve lo dico ok dai eh no che palle comunque scusate chiaramente per la tosse però sono malato io di cosa non posso fare allora perdiamo mi fai oh la mi dai un checkpoint per cortesia oh ecco ho chiesto e ve l'ha dato il potere di essere youtuber scherzo spero mi stanno andando dalla parte giusta invece no come ho fatto un giro bellissimo devo andare di qua uh sono un punto da qualcuno però quanto vedo non è ancora arrivato nessuno traguardo ah ok ma la barra in basso è quella che dai punti cioè non è quella che dice quanto sei lontano zio di l'oprì dai 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 bu no cazzo dovevi prendere un fammi andare fammi andare eh no quello lì non lo devo cercare di prendere perché troppo difficile allora dai proviamo a fare quel coso quello lì è già 73 73 è troppo zio vai paolo no doveva prendere almeno quella porco due oh dove devo oh ok no ma dai alla fine ci avevo passato su potevi darlo eh porco sono morto davanti al traguardo bellissimo dai me lo potevi prendere quello qui oh sono arrivato finalmente sono arrivato sono arrivato primo no forse aspettavo però vabbè perché magari non è vero magari non è vero e all'ultimo succedono cose allora ti prego non fate altri punti ho fatto un voto di punti sono bravissimi non sapete quanto sono bravo 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 no 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 ma dai che cazzo di un punto guarda di un cazzo di punto vabbè c'è l'ultimo round giochiamolo subito comunque fuck di un punto c'è zero ingiustizia di un punto solo devi anche farmi vincere eccolo sono già morto vabbè dai andiamo in questo che è un po' più semplice dai oh l'ho preso ok 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 vai 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 bravissimo ok vado di qua ok eh no mi sono un attimo impappinato prendi questo dai qua troppo veloce mamma mia proprio ok fammi andare di qua prendi quello ti prego prendilo ti prego ok boom qua dove c'è da andare di qua porca vacca son morto vabbè dai dai ce la posso fare allora andiamo di qua prendi quello assolutamente prendi quello assolutamente perfetto check point voglio un check point d'accordo esigo un check ecco oh vai punti su punti vai giù in carena come dice Bistrad anche se Bistrad lo dice quando fa le gare con le moto e non di sicuro quando vola con le nitra perché non avrebbe molto senso allora qua facciamo il giro di prima così facciamo un moto di punti no oh 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 ok mamma mia proprio ah ma io posso rifarlo quante volte voglio però se poi muoio perdi punti puttare la maiala che cazzo eccolo sono un genio io provo a rifarlo no oh che giù quanto rupe il cazzo oh la adesso però me ne vado di qua che meglio va dai allora cerchiamo di combinarla giusta su via no vai su vai su vai su fuck no non mi dire che è arrivato quello là perché è bustabile dai prendi questi dai prendilo ok fuck non me l'ha fatto prendere sono praticamente arrivato ho fatto peggio di prima dai odio moria su sto gioco cioè su sto win game non ci arriverò mai non ci arriverò mai buongiorno no ho i secondi adesso fuck la fine che non lo raggiungo nemmeno forco il 2 dai se 119 gesùcristo esco qua dato che vai 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 vabbè io concludo sotto shall flo ha vinto vabbè questo questo prima volta su questo minigioco non è andato abbastanza male insomma subito non avevo capito comunque finalmente la partita è conclusa e qui si conclude anche il bellissimo video io vi ringrazio per averlo visto vi chiedo di iscrivervi al canale se non lo siete scusate vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete iscritti condiviate il video con tutti i vostri amicissimi no con tutti i vostri amici e niente io vi ringrazio ciao a tutti ciao